Ciao sono Paolo Bacci e vi presento questo nuovo arrivo, una Caravan Sport 400, un comodo 4 posti, una roulotte compatta e ben rifinita. Cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito dove ci sarà il prezzo di listino, il prezzo chiave in mano e gli optional dimensioni e peso di questa roulotte. Ora andiamo all'interno e vi faccio vedere l'abitabilità. Questa parte è la parte del letto matrimoniale che si, vedete che è molto grande, che si trasforma in tavolo, quindi un bellissimo tavolo per quattro e un grandissimo letto matrimoniale. Vedete le belle finiture, contenitori, molti spazi di stivaggio, poi la cucina con i tre fuochi perché questa Caravan è una Caravan molto adatta per il turismo itinerante, quindi compatta, funzionale, bel lavello, bei contenitori sopra la cucina, il frigorifero con il congelatore, belle cassettiere, due e tre, questa parte finale. Dall'altra parte un bell'armadio, ha già lo scaldacqua, il serbatoio interno, come vedete un bellissimo oblò, molto luminoso e tante belle finestre, quindi è un oblò molto accogliente. Poi il bagno, questo è il lavandino, come mi lavo bene, la finestra, un bel contenitore, l'oblò, l'altro contenitore sotto al lavello, qua come vedete mi ci siedo bene. Poi per la doccia c'è il flessibile con la tenda e guardate che ci si lava bene. Qua il gancio per potergli appendere cose bagnate che così scaricano, si asciugano perché il bagno è riscaldato e quindi scaricano a terra eventuali cose, l'umidità. Quest'altra parte sono due lettini, anche questi trasformabili, questo che scende, vedete questa, essendo in tre, questo può levarsi e quindi fare un contenitore con l'aiuto di queste tasche e poi abbassando il tavolo diventa un letto. Là c'è anche la divisione che quindi permette di separare questa zona anteriore alla zona posteriore dei lettini. Quindi se vi è piaciuta venite a vedere perché così capite anche la vostra scelta di una caravan compatta e abitabile come questa. Come sempre ha gli ottimi prezzi e servizi caravan bar.